Torniamo a collegarci con Ligna Sanremo in diretta su Radio Ligna numero 1 con uno degli artisti graditissimi, grande ritorno per Francesco Gabbani. Ciao, ciao a tutti. Allora Francesco, io devo dire questa cosa qua, che se noi prendessimo gli ultimi 20 anni di questo festival di Sanremo, visto che poi celebriamo i 70 anni, e ci andassimo a ricordare delle canzoni vincitrici, probabilmente ne ricorderemo poche. Per te questo invece non accade, perché ricordiamo bene come tormentone, Amen, Occidentali Scarma, e questa volta, a poche ore dall'esibizione, con Viceversa. Sarà così? Noi ce lo auguriamo. Me lo auguro anch'io, ovviamente, perché lo spirito di venire al festival di Sanremo, ovviamente, è far sì che la canzone che porti faccia il più possibile breccia nei cuori degli ascoltatori, quindi mi auguro che vi ricorderete di questa Viceversa. Quello che ti posso dire è che il mio approccio, cioè la motivazione per cui sono tornato al festival, è proprio perché ho scritto questa canzone, che mostra probabilmente una componente diversa del mio modo di fare musica rispetto ai crismi che aveva una canzone, per esempio, come Occidentali Scarma. Viceversa è una canzone che mostra la mia parte più intima, più intimista, più emozionale, che quindi ragiona sull'aspetto sentimentale ed affettivo della nostra esistenza. Quindi probabilmente è un gabbani diverso da questo punto di vista. Quindi ti esibirai per la prima volta stasera e poi già ti proietto a domani, quando ci sarà la serata cover, perché ho saputo che non solo porti italiano vero, ma ti presenterai senza ospite, è vero? Mi presento senza ospite se non con il mio alter ego che io chiamo l'amico frizzo, in senso figurato. La scimmia? No, la scimmia no, la scimmia ormai l'ho messa in pensione. Passata dai. Passata, mi ha chiesto, mi ha chiesto a Sanremo, vengo anch'io e ho detto no, quest'anno per favore, è meglio di no. No, la canto in realtà da solo perché in realtà ho in mente una performance, devo dire, particolare, che poi vedrete, che non vi posso svedare, che su questo brano che sento particolarmente l'italiano, perché è un brano che considero abbastanza simile ad Occidentali Scarma, perché è molto conosciuto come brano, ha avuto un successo nazionale popolare, ma forse non è stato colto il livello di lettura più profondo, che è quello comunque di sottolineare quelli che sono i retaggi dell'italianità, che valevano in 83 quando l'ha cantata Toto, e secondo me continuano ad essere attuali. E senti, visto che ormai ti puoi considerare tra gli abitui del Festival di Sanremo, come lo vivi quest'anno? Ma in realtà lo vivo con molta serenità, perché la verità è che lo sfizio di vincere, diciamo, della vittoria, me lo sono già tolto, poi se dovesse accadere di nuovo benvenuto, ovviamente, però ecco, mi approccio in realtà con la serenità di portare la mia musica in un modo autentico, senza avere uno spiccato senso di competizione, cosa che probabilmente nel 2017 avevo voglia, devo ancora dimostrare tante cose, quindi lo vivo con molta serenità. Hai bissato un grande successo, noi ti auguriamo anche per questa grande edizione del 2020, anche perché a poche ore con viceversa, Francesco Gabbani su Radiolinea numero 1, che firmerà anche lui la nostra borraccia. Ah, giusto, mi dimentico sempre. Quest'anno siamo Plastic Free con Radiolinea numero 1, e quindi, insomma, ci sembra... Allora, ecco, Plastic Free, liberi dalla plastica, con Radiolinea numero 1. O viceversa. O viceversa, e questo è Gabbani che la firma. Eccolo qui. Noi siamo la radio che non regala gadget, ma se li tiene. Complimenti per questa iniziativa, perché è fantastica. Bene, grazie a Francesco Gabbani e in bocca al lupo. Grazie a voi, ciao.